Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video, qui Gogs Hulk Oggi stiamo per scoprire cosa ho comprato Oggi nei due centri commerciali Allora Ecco raga Allora innanzitutto Holister Holister come sempre è un bel brand Poi raga Scarpe scarpe Queste sono le scarpe che metterò in un matrimonio Proprio belle oppure da lavoro Poi Questo no Questo è l'orologio Che sta all'interno Guardate la marca Tissot ragazzi Anche se si legge Dossit però è Tissot Un brand della Swiss Made E Tokunoshima guys Adesso facciamo l'unboxing Ecco qui raga Allora Come dicevo Facciamo l'unboxing Tokunoshima Questo t-shirt è dedicato a una leggenda Questa leggenda è Il miglior Kobe Bryant Black Mamba forever guys Black Mamba Let's go Poi guys C'è sta Holister Un bel jogger Di colore azzurro Raga Questo è il jogger C'è felpato Poi una bella maglietta dell'holister Vedete Questo si illumina al buio Grazie a questo segno Simbolo Dell'holister Ed infine Questa è una felpa Con l'udi Proprio bella Marcata Holister Raga Sbrigatevi Questo è un 3x2 Raga Dai Raga Dai Questo di scarpe scarpe È La marca Lumberjack Quello del Scarpe per matrimonio O per lavoro Sono proprio belle Sono eleganti Vedete Grazie raga Oddio raga Ed infine Questo è quello che mi è piaciuto di più È l'orologio tisso Per ragazzi Grandi cari Guardate Mamma mia Sono proprio felice Perché c'è un orologio Ma della Ferrari Questo qua È proprio della Tissot Swiss made Non so se vi piace raga Non so Commentate sotto Ai commenti Spero che Vi scriviate E Mi mandate tutto quanto Questo lo metterò per sempre Oltre a Quella della Ferrari Grazie raga Per aver visto questo video Sono felice Di essere ritornato E Lo so Dopo tanto tempo Ma Stiamo qui Qui Poi con un nuovo look Vedete Sempre così Dai Da Gog Sulk Un bacione Dai Dai Bello.